Finiscilo, finiscilo, così abbiamo un cappò in queste analisi dei combattimenti Chiusura, urca, urca, calcio, calcio Mamma mia ragazzi che mine Amici, buon di Allora, innanzitutto, prima di cominciare qualsiasi cosa, ti voglio ringraziare perché L'ultimo video che ho fatto, quello sulla storia di Superbon, è andato una bomba È stato il video più visto in assoluto sul mio canale di Youtube Quindi ti ringrazio tanto, 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 tanto Cosa facciamo oggi? Oggi analizziamo il combattimento tra due atleti molto forti Che io personalmente ho conosciuto oggi guardandolo Il combattimento si è tenuto sabato, quindi ieri, all'OMNOI Stadium Cos'è l'OMNOI Stadium? L'OMNOI Stadium è uno degli stadi più importanti della Thailandia Ecco il Claudio del post-editing Allora, ti do qualche dritta in più su questo stadio Allora, si trova nella zona ovest di Bangkok Nel quartiere OMNOI Il suo vero nome è Siam Boxing Stadium E in tempo pre-Covid, adesso non so se fanno già entrare il pubblico Il biglietto di ingresso per i Farang, quindi per i non-Thailandesi Poi apriremo una parentesi sulla parola Farang È di 600 baht, circa 15 euro Pochissimi in confronto ai prezzi degli stadi più importanti come l'Umpini o il Rajadamner Che costano dai 50 ai 60 euro per l'ingresso Sapete che i Thai hanno due prezzi I prezzi per i Thai e i prezzi per i non-Thai Basta, andiamo avanti con il video Perché porto questa cosa? È una cosa di analizzare i combattimenti per farvi conoscere degli atleti nuovi Farvi conoscere gli atleti che contano in Thailandia E tenervi aggiornati un po' su combattimenti importanti che ci sono in terra tailandesi I due combattenti che andiamo ad analizzare oggi si chiamano Per farvi capire quanto sono spanato E che difficoltà che ho con i nomi tailandesi Vi faccio vedere perché me lo sono dovuto scrivere Nonostante io studi la lingua Thai Mi devo scrivere i nomi perché sennò non mi vengono in mente Ok, quindi abbiamo all'angolo Rosso Ovviamente ho invertito i biglietti All'angolo rosso No All'angolo rosso abbiamo Blurit No, non ce la posso fare All'angolo rosso abbiamo Banluerit Sit Wat Characchai Penso che sia giusto Se lui ci sente Penso che guardi questo video Spero non mi voglia mai All'angolo blu abbiamo Sakingam Jitmongon Jitmongon Avreste già dovuto sentirla Vi dovrebbe tornare in mente questo nome Perché la sua palestra Sakingam È la stessa Diciamo che Di cui Rottang Porta il nome Poi da quello che sono Non si allena più tanto All'angolo Jitmongon Rottang Vabbè Rottang lo conoscete tutti Super campione Lo conoscete Lo conoscete perché Campione di One Comunque anche lui Campione dell'Omnoi Stadium Ha vinto tanti tanti match E è un atleta veramente Veramente importante Poi adesso A dicembre farà questo Aborto di combattimento Che è un misto tra la Muay Thai E l'MMA Quindi un po' di Di round di Muay Thai E un po' di round di MMA Non vi parlerò di questa cosa Tranquilli Vi ho detto che vado solo Nelle mie competenze Quindi ragazzi Bando alle ciance Accendiamo il computer E parto con L'analisi del combattimento Premessa come sempre Partiamo dal secondo round Perché il primo round È stato veramente Solo solo di studi Non ci sono stati scambi di colpi O clinch particolari Che è necessario analizzare Ok Quindi abbiamo detto Angolo rosso Angolo rosso Banluerit Sitwaran Chai E Sakengam Questo Sakengam Ha un nome che mi ricorda Quasi quello di Sexhunt Insomma Un fighter dal nome tranquillo Basta promesso Non lo faccio più Per questo video Forse Però sapete Il nome di Quel nome Quel nome che ho appena detto È un nome esplosivo Ogni volta che lo dico Succede così Quindi Sexhunt Basta Cominciamo Ok Abbiamo L'angolo rosso Che sicuramente È più propositivo Controlla l'avversario Con i frontali L'angolo blu attacca A distanza subito Pressante Tip di angolo rosso Dico angolo rosso Angolo blu ragazzi Perché faccio fatica Se no Fase quasi di studio Ok Angolo rosso Chiude con la gomitata Fase di clinch Attiva L'arbitro divide Non chiedetemi perché Pronti via di nuovo Possiamo subito notare Che l'angolo rosso Banlu e Rit È mancino E l'angolo blu Sakengam È Con la guardia ortodossa Fase di studio L'angolo rosso Cerca di imporre Il suo angolo dominante Vedete Cerca sempre di uscire A destra È il lavoro Che un buon mancino Dovrebbe fare Su scambio di frontali Oh Low kick Tremendo Di Banlu e Rit Che piega la gamba Dell'angolo blu Ancora Insiste L'angolo blu Prova a rispondere A rispondere un po' Con i pugni Ma niente di che La gamba è già segnata È già segnata subito Al secondo round Banlu e Rit Di nuovo calcio basso Si protegge Si protegge L'angolo blu Chiude con i pugni Ma il calcio basso Il calcio medio Di Banlu e Rit Vanda bersaglio E infieriscono L'angolo blu Ha una strategia Di chiusura sui pugni Per far sì Che l'altro Non chiuda con le gambe Ma non sta funzionando molto Altro low kick E calcio medio Dell'angolo rosso Che vanda bersaglio Ragazzi È già in dominio All'angolo rosso È già in dominio All'angolo rosso Altro low kick Dell'angolo rosso Blu Chiude con i pugni Il blu Chiude con i pugni Ora il rosso partirà Guardate Vai Diretto del rosso Chiusura di low kick Che manda totalmente In crisi l'altro Pugni dell'angolo blu Che però Ha movimenti limitati Dai colpi alle gambe Lo vedo male Lo vedo male L'angolo blu Banglu e Rit Tiene il ring Tiene il ring Banglu e Rit Che è l'angolo rosso Cerca di chiudere Frontale Fase molto Di studio Secondo round Non particolarmente attivo Evita i colpi L'angolo rosso L'angolo blu Cerca di chiudere Quanto è scuro L'angolo blu Sembra quasi Buaccao Quando Urca Diretto Dell'angolo rosso È alle corde L'angolo blu L'angolo rosso Ovviamente Sta cercando di chiudere Per infierire con le gambe Dato che ha visto che L'angolo rosso Le soffre parecchio Le soffre parecchio Urca 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 Ora 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 Attacca l'angolo rosso Che ha sempre L'angolo dominante Guardate Sempre il piede fuori Dalla guardia Dell'avversario Fine primo round Fermo un attimo E facciamo una piccola analisi Allora Possiamo subito notare Qui trema tutto Perché ho messo cellulare Sopra una scatola Che me lo tiene alto Sono messo alle pezze Ragazzi Qui oggi Allora Vi hanno detto Notiamo subito che L'angolo rosso Sta imponendo Il suo carattere Il suo modo di combattere Vediamo che è mancino L'angolo blu è distorso Qual è un ottimo modo Per un mancino Di imporre il proprio carattere Imporre il proprio modo di combattere È quello di Tenere l'angolo dominante Cosa vuol dire Tenere l'angolo dominante Vuol dire Mettere il piede destro Da mancino Fuori Alla guardia Del proprio avversario Cosa succede Succede che Tutti i colpi Forti del mancino Hanno la traiettoria corretta E la distanza giusta Per arrivare a bersaglio Sono dritti Rispetto all'avversario È proprio quello Che sta facendo l'angolo rosso Qual è la strategia Che sta adottando L'angolo rosso La strategia adottata Dall'angolo rosso È quella di Fare un po' di casino Con le mani Accorciare E chiudere con le gambe Perché? Perché l'angolo blu Sta soffrendo Parecchio i calci bassi Dell'angolo rosso Avete visto che Ha piegato le gambe Se è scomposto Ha avuto dei comportamenti Che fanno prendere Molti molti punti All'angolo rosso Ecco Quando combattete Se vi capita di combattere In un match di Muay Thai L'atteggiamento È molto importante L'atteggiamento È quasi più importante Del punteggio Perché se tu porti Dei calci Magari porti 50 calci Ma non fanno niente All'avversario Non lo scompongono L'avversario Anzi a carattere Va avanti Può essere che Sale l'altro Quando invece Porti un calcio medio Magari ne porti uno Ma Lì il calcio fa veramente Effetto E veramente punteggio Andiamo avanti Terzo round Qui si partirà Già col fuoco Mi sa Terzo round Fase di clinch Si parte con un clinch Attivo Dove si scambia Le ginocchiate Ginocchiate alle cosce E dicevo Fase di clinch L'arbitro divide Perché è un po' inattiva Angolo blu Cerca di chiudere La distanza subito Io userai Una strategia diversa Dell'angolo blu Che dopo vi spiego Tra un round e l'altro Clinch Gomitata dell'angolo rosso Fase di clinch Abbastanza Inattiva Secondo me Ha qualche ginocchiata Ma niente di interessante Fa bene a dividere L'arbitro in questo caso Tip dell'angolo rosso Che ferma L'avanzata dell'angolo blu L'angolo blu Sta cercando di chiudere la distanza Gancio dell'angolo blu Che però va A vuoto L'angolo blu chiude E sono di nuovo In clinch La strategia dell'angolo blu È quella di chiudere la distanza Per impedire all'avversario Di utilizzare i calci Probabilmente la gamba Dell'angolo blu Del nostro mini Wakao È totalmente sofferente Vedete che cerca sempre Ad andare in clinch Gomitata dell'angolo rosso Bravo anche nell'angolo L'angolo rosso Nel clinch L'angolo blu Va a terra E viene contato È praticamente K.O l'angolo blu Dura niente Sto video Cavoli Non posso Non posso già farla finita Ok viene contato Boh Ricomincia Adesso l'angolo rosso Deve andare alla carica Deve andare alla carica E invece l'angolo blu Che va alla carica Bravo perché Se fa partire L'angolo rosso È fottuto Però i calci Dell'angolo rosso Vanno a bersaglio Fronta Urca Viene ancora piegato In due L'angolo blu Sarà perché Ha i capelli Così colorati L'angolo blu Chiude di pugni Ma l'angolo rosso Non fa un cazzo Non fa niente Non fa niente Prende il tempo Cerca di uscire Cerca di uscire Per poi Andrà a chiudere Col pugno E col calcio basso Subisce i pugni Ecco qua Calcio basso a vuoto Però bravo L'angolo blu Evitare Il lavoro Di calcio basso Il calcio basso Ancora lo prende Ho appena detto bravo Ma sta subendo Adesso va K.O Vedrete Pugna bersaglio Dell'angolo blu L'angolo rosso Tiene la distanza Cerca di lavorare Oppure una fase Non mi sta facendo Impazzire questa cosa L'angolo rosso Calcio alto al viso Perché non ha chiuso Al massimo della forza Se tirava un calcio Come quello di Superball Lo metteva a terra Altro calcio alto al viso Perché non lo carica Perché non lo carica Lo mette K.O L'angolo blu Col fatto che Ha tutta la testa Sulle gambe Tiene le braccia Che sono basse E rischia quegli high kick Pericolosissimi Pericolosissimi Calcio basso Dell'angolo rosso Ancora Sta infierendo Vedrete che lo metterà giù L'angolo rosso Sta gestendo E infierendo Col Col calcio basso E secondo me Urca Ancora calcio Ancora calcio basso Ancora calcio basso Che se cambia lina Me lo mette K.O L'angolo blu Ha totalmente le braccia basse Cioè potrebbe fregare Urca Ancora calcio basso Potrebbe fregarlo Sia di mani Che di calci Vince l'angolo rosso Senza ombra di dubbio Senza ombra di dubbio Angolo rosso Chiude Gomitata dell'angolo blu E Quarto round Fermi un attimo Ok Facciamo una piccola Analisi Di questo round Quali sono state Le due strategie adottate La strategia adottata Dall'angolo blu È stata quella Di chiudere In clinch Di chiudere la distanza Perché Questa cosa Perché probabilmente Senza probabilmente Ha molto dolore Alle gambe Perché i calci Dell'angolo rosso Gli hanno fatto un danno Secondo me assurdo Perché ogni volta Che prende un calcio basso Barcolla Muove le braccia Si scompone Fa proprio Quell'atteggiamento Di cui vi spiegavo prima Che non bisogna fare Quando si combatte E quindi Cosa fa Cerca di chiudere In clinch Per non lasciare La distanza L'angolo rosso Di chiudere Con i calci bassi D'altro canto L'angolo rosso Che cosa fa L'angolo rosso Gestisce Cerca di Di non farsi Chiudere sempre La distanza E quando può Infierisce Con i calci bassi E ogni calcio basso Dell'angolo rosso È una vera sofferenza Per l'angolo blu Invece Nella fase di clinch Come si comportano Si comportano Che io vedo Più attivo Più efficace L'angolo rosso Rispetto all'angolo blu Che è più attivo Nel clinch Perché entra Prova a muovere le braccia Porta le ginocchiate Però l'angolo rosso Mette meno colpi Ma ogni colpo Che mette Va a bersaglio Come ad esempio Le gomitate Va bene Yotti Yotti Sì Round 4 Andiamo avanti Questo secondo me Sarà il round definitivo Secondo me Non arriva dal quinto round Subito fase di clinch L'angolo blu Ha subito chiuso Gestisce Porta qualche ginocchiata Lo schermo ballerà tutto il tempo Perché il cellulare L'ho messo veramente male L'angolo blu chiude Però con un diretto Ma fuori misura L'angolo rosso gestisce Calcio alto Dell'angolo rosso Calcio basso Dell'angolo rosso Che piega ancora le gambe All'avversario L'angolo blu L'angolo rosso non vuole farsi chiudere la distanza Frontale dell'angolo rosso Calcio alto Bravo Anch'io l'ho rifatto così Esce lateralmente Gestisce L'angolo blu cerca di chiudere L'angolo rosso si chiude E subisce i pugni Dell'angolo blu Del nostro mini Buaccao Ma chiude ancora Con i calci bassi E ogni calcio basso È una vera Vargata Per l'angolo blu Gestione Gestione Dell'angolo rosso L'angolo blu cerca di chiudere Ma niente L'angolo blu cerca sempre di andare nel clinch L'angolo rosso non sta facendo nulla Calcio basso che va fuori misura Ma l'angolo blu soffre Sta proprio soffrendo l'angolo blu Si vede che è una sofferenza unica Gestione Gestione Calcio alto dell'angolo rosso Ancora sul viso Non capisco come tira i calci alti Sto angolo rosso Cioè Sono entrati sul viso Quattro calci alti E non l'ha messo ancora K.O Li tira probabilmente male Secondo me Sbaglia qualcosa Gestisce Tanto lo metterà giù con i calci bassi Però l'angolo blu sta chiudendo Sta facendo un buon lavoro Sta cercando di Di non subire calcio alla gamba Quindi chiude di mano Peccato che ha delle maniche Sono pessime Calcio basso dell'angolo rosso Dai 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 Finiscilo Finiscilo Così abbiamo un K.O In queste analisi dei combattimenti Chiusura Urca Urca Calcio Calcio Mamma mia Ragazzi che mine L'angolo rosso sta gestendo Discretamente bene Secondo me potrebbe fare meglio Avrebbe già potuto finire Questo match da un pezzo A mio dire Pugni dell'angolo blu E secondo me sta anche Prendendo dei colpi Che non dovrebbe prendere L'angolo rosso Tuttavia È in vantaggio L'angolo blu va avanti Sta mostrando un ottimo Atteggiamento Un atteggiamento che In questo caso Agli arbitri Ai giudici piace Perché sta andando avanti Sta cercando di far vedere Che ce n'è ancora Gomito dell'angolo blu Chiusura in clinch Dell'angolo rosso Divisione dell'arbitro Perché il clinch È totalmente inattivo Quando clinch inattivo Ci si viene divisi Oh 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 L'angolo rosso indietreggia E rimette con i low kick Che infieriscono Basta Mi sa che Mi sa che Mi sa che il match è finito Ragazzi Io credo che Si si basta 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 L'arbitro Sospende il match Perché L'angolo blu Nonostante Andasse avanti In continuazione L'arbitro decide Di sospendere il match Per Preservare la salute Del combattente È giusto che sia così Secondo me Perché Gli arbitri Devono Ragazzi Gli arbitri Devono Preservare La salute Del combattente Riapro la parentesi Petrosian Super buono Molti del pubblico Di Petrosian Si sono arrabbiati Perché Super buono Non era andato A Salutare l'angolo La parte che non è vero Se vedete È andato da Arman Da chi per lui È solo Dal membro dello staff A mostrare i suoi omaggi A toccare la spalla Prima anzi È provato ad andare a Petrosian Ma lo staff di One Lo ha fermato Quindi non creiamo Di altri venti Se volete criticare qualcosa Di quel match Ce l'ho qua Perché mi ha dato fastidio Questa cosa Andate a criticare L'arbitro Perché L'arbitro Ragazzi Cioè io Non ho Non vedo una testa Non ho mai visto Una testa come quella Di Petrosian Rimbalzare per terra Come se Ci fosse Lebron James Che palleggiava Ok Cioè Non è giusto Che un arbitro Permetta che la testa Di un atleta Vada a terra E sballottoli così Avrebbe dovuto Afferrarlo Avrebbe dovuto Cadere con lui Essere più vicino All'arbitro E prenderlo al volo Avrebbe dovuto fare Come fa in questo caso L'arbitro di questo match Noi stadium Uno degli stadi migliori E cosa ha fatto? Ha sospeso il match Ha visto che L'angolo blu Qual è la politica Di un'organizzazione? È quella di tutelare L'atleta E fare del buono sport O è solo quella Di fare dello show Di promuovere Della schifezza Del promuovere Dell'aip Perché Parliamoci chiaro Vedere un atleta Come Petrosian Che cade per terra E vede la testa Che sballottola Secondo me Non si può vedere Però a livello di Aip A livello di interazione Fa più show Fa più show C'è poco da fare Vedere uno che Cade l'arbitro Gli prende la testa Al volo Magari non fa Tanto show Ok Il K.O. È meno È meno È meno Irruento Poi io non credo Che L'arbitro Mi sembra che fosse Gliacosta Adesso non mi ricordo Non vorrei dire cazzate Non credo che l'arbitro Non abbia voluto Prendere la testa Di Petrosian Era troppo lontano Non si può stare A quella distanza Durante un combattimento Andate a vedere I match Dei tailandesi Gli arbitri sono Appressi Al combattente Quando L'atleta cade Per K.O. Raramente In Thailandia Io ho visto La testa sballottolare Mi è capitato spesso Di vedere che l'arbitro Prende al volo La testa Dell'atleta Che cade Mi è capitato spesso Di vedere Un arbitro Che riesce a bloccare Con un calcio frontale Il calcio Il calcio Dell'attaccante Mentre l'avversario Cade C'è gli arbitri Devono stare attaccati Gli arbitri Devono essere preparati Mi è capitato anche spesso Vedere Arbitri Che prendono colpi Che dovrebbero prendere Gli altri atleti Pur di tutelare L'avversario Pur di tutelare L'atleta che c'è sul ring Quindi poniamoci una domanda Anzi Iscrivetemi Il vostro pensiero Per favore Nei commenti C'è l'arbitro L'evento Anzi Deve tutelare L'atleta O deve promuovere Solo lo show Qual è il limite Qual è il limite Il limite è lo show O il limite è la salute Dell'atleta Qual è il limite ragazzi Scrivetemelo per favore Voglio sapere il vostro pensiero Secondo voi Il limite È quello di fare Più soldi Quindi di raggiungere Più persone O il limite Deve essere La salute del combattente Questi sono Argomenti E domande Importanti Che bisogna porsi Secondo me Per andare avanti In queste discipline Per promuovere correttamente Queste discipline Ragazzi Io spero che questo combattimento Vi sia piaciuto Spero settimana prossima Di portarvi altri combattimenti Interessanti O comunque di affrontare Altri argomenti interessanti Sul mondo della Muay Thai Basta Vi saluto E ci vediamo Nel prossimo video Ciao Mi state chiedendo In migliaia Ve lo assicuro Ho ricevuto Decine 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 Di messaggi Di voi Che vogliono Vorreste Che analizzassi Il combattimento Tra super buono E Giorgio Petrogia Ragazzi Non lo analizzo Perché non lo voglio analizzare Perché non è il mio sport Lo ripeto sempre La K1 Non è il mio sport Non sono uno di quegli Youtuber A parte che non sono uno Youtuber Non sono uno di quegli Personaggi Chiamiamoci così Youtuber Influendo Non sono Non può essere neanche Vabbè Comunque mi fanno schifo Questi termini Non sono uno di quelli Che per avere più like Per avere più view Segue il trend Quindi oggi parla di Tyson Fury Domani parla di Giorgio Petrosian Dopo domani parla di McGregor che picchia pacchinetti Eccetera eccetera Io non sono questo Io parlo solo ed esclusivamente Di Muay Thai Infatti C'è stato il video di Superbon Perché ho voluto dare Il mio taglio La mia visione Della cosa Quindi ho parlato Di Muay Thai Di Superbon Del Superbon Atleta di Muay Thai Fino a che Ho iniziato a combattere Nella kickboxing Punto La mia competenza Si ferma lì Su questo canale Sui miei video Vedrete sempre Solo ragazzi Video dove io parlo Di ambiti Dove ho competenza Dove non ho competenza Non posso andare Quindi andate dai canali Di chi non ha competenza Parla di quello che vuole Se questo è che vuole Ah devo dirti un'ultima cosa Sexan Ecco Grazie per aver visto il video E ora clicca tutti i pulsanti Che vedi Ciao 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 Grazie a tutti